Ciao ragazzi e ragazze e benvenuti su Investing Guide, vediamo subito un attimo, inizio naturalmente da questa immagine di MM Finance che si trova ancora a crescere come Total Value Locked di 1.69 Billions Dollar, quindi sicuramente sta crescendo enormemente la DeFi che rende naturalmente l'ecosistema abbastanza importante da un punto di vista degli investimenti in DeFi. Quindi naturalmente bisogna anche considerare un attimo il Bitcoin che in questo momento si trova anche abbastanza ben piazzato, ma vediamo gli scenari possibili dopo un vostro bellissimo like per incitarmi a sostenere il canale, grazie. Andiamo quindi a verificare i possibili due scenari, quindi di salito o di discesa del prezzo di Bitcoin. Come potete osservare, dopo aver rotto i 44005 come valore ipotetico di resistenza che avevamo al di sopra e per cui non riusciva a rompere questo punto, questo punto vedete come si individua una resistenza individua che ha effettuato nel passato, era un supporto, è stato rotto, poi è stato tentato di nuovo di essere spondato come resistenza, è stato violato, cioè non è stato violato, poi è stato ripreso, è stato di nuovo respinto, di nuovo ripreso, 44,5 respinto, di nuovo ripreso e alla fine ha rotto anziché andare verso il basso. Quindi 44,5-44500 risultava essere una resistenza abbastanza forte. La domanda quindi ha continuato a reagire bene e il prezzo si è attestato attualmente a 46600 dollari della lettura di oggi, martedì 5 aprile. Naturalmente questo primo tentativo di attacco poi si è risotto con un assorbimento, perché i lower come candela vedete che è stata ampiamente respinta qui intorno ai 44.000-45.000 e quindi è stato poi riassorbito e adesso c'è questa candelina. Vediamo se riesco ad ingrandirvi ancora il grafico in modo da farvi vedere questa shadow della candela giornaliera di ieri che ha tentato di portare di nuovo a un assorbimento ma è poi stato respinto con una candela che ha riportato a chiudere a 46.400 e oggi ha aperto e sta salendo a 46.600-46.500. Allora i scenari naturalmente quali sono? Sono quello di possibile rottura dei 47.000-48.000 ma comunque un ulteriore conferma che il prezzo possa essere valutato in bullish è quella di rompere i 47.000-48.000 perché vedete come ha avuto un picco dei 48.000 ma poi è stato respinto. Quindi se superiamo i 48.000 di sicuro avremo una conferma di una buona struttura rialzista almeno sul time frame giornaliero che in questo momento stiamo osservando come candele giornaliere. Naturalmente lo scenario opposto perché dobbiamo vedere che se supera i 48.000 allora è possibile aprire eventuali anche posizioni long ma naturalmente come ben so dai chi mi segue sul canale voi di solito non cercate di comprare quando avete la conferma che il trend possa essere confermato a rialzo ma cercate di comprare a dei prezzi spot più bassi ed è la logica non dal trader ma di chi cerca di speculare nel tentativo di comprare a prezzi migliori ed è corretto così se uno la vede come acquisto spot finalizzato all'accumulo di criptovaluta. In questo caso dobbiamo vedere lo scenario biris. Allora sarebbe naturalmente la possibile perdita del breakout intorno ai 42.000-40.000 quindi possibile se per chi è speculativo e vuole comprare a un prezzo migliore bitcoin sperando che non vada oltre un certo valore di giù è questo andiamo a intorno ai 42.000-42.000-44.000 quindi il range che vede questa linea tratteggiata è l'indicazione di possibile procedura di eventuale acquisto che dovete naturalmente valutare voi nel momento in cui da conferma di risalita quindi viene respinto questo valore dal 44.000 o male che vada nell'intorno dei 42.000 vada a mettere un orizzontal line intorno ai 42.000 perché si trova qui nella zona verde quindi tra i 44.000 e i 42.000 è un range di prezzo di possibile acquisto naturalmente osservate candele di questo tipo ossia con una shadow ossia una gamba molto lunga che permette di comprendere che è stato respinto e quindi funge da supporto in questo caso un potenziale acquisto nell'interno del range tra i 42.000 e i 44.000 può essere considerato in modo positivo per un certo scenario di possibile entry in direzione long quindi basato su un'ipotesi di continuazione rialzista dopo un respingimento di un potenziale ribasso di un supporto quindi una invalidazione dello stop loss sarebbe una chiusura con assorbimento al di sotto dei 40.000 quindi se noi andiamo sotto i 40.000 quindi intorno a questa linea verde che vi faccio vedere qua sotto che sarebbe proprio al di sotto dei 40.000 sarebbe naturalmente uno scenario di inversione quindi pericolosamente potrebbe andare uno scenario verso la direzione bilice non bullish quindi occhio naturalmente a come si muoverà il prezzo potrebbe accadere ma se dovesse accadere sotto i 40.000 allora quella è una invalidazione dello scenario bullish e quindi una direzione che potrebbe prendere la piega verso il bilice questo naturalmente per quanto riguarda lo scenario per quanto riguarda naturalmente stiamo valutando terra ma vediamolo un po' nel complesso vediamo bitcoin in prima posizione ethereum, tether, bnb, dollaro c, solana, terra luna a settima posizione con 41 mila e 3 milioni, 41 milioni rotti di capitalizzazione si distacca un pochino rispetto ad ad cardano che scende dell'1% invece terra sale del 13, solana del 19, quelle più forti tra le prime 10 posizioni c'è da dire naturalmente anche un altro fattore vedete la dominance a 41% di bitcoin e ethereum a 19.5 andiamo subito a visualizzare su trading view la dominance di bitcoin come potete osservare la dominance di bitcoin che aveva raggiunto dei picchi del 44% attualmente si trova intorno al 41% con possibilità anche di rompere questo valore di supporto naturalmente la dominance non serve a livello indicativo per farvi capire se riprende una forza le altcoin oppure bitcoin in questo caso con il prezzo che leggermente sale di bitcoin è una dominance che scende, questo favorisce le altcoin e infatti se andiamo a vedere ethereum, la sua dominance sta salendo ormai incessantemente questo è un indicatore che è il fatto che le altcoin godono di un buon sentiment godono di un buon segnale sia di volumi che anche di quotazione che va ad incrementare enormemente la loro market cap quindi ci sono molti investimenti nel settore DeFi per quanto riguarda le altcoin bene, per quanto invece concerne la visualizzazione di luna contro il dollaro vedete la sua forza è molto evidente evidente ormai a tutti perché ha rotto naturalmente l'all time high che era precedente a questo valore andiamo ad inserire come 103 dollari è stato rotto è stato poi confermato che sta utilizzando le medie mobile a 12-21 periodi come medie più vicine, potremmo fare anche 9 periodi per vedere se mantiene questo tipo di trend line ma io rimango con la 12 perché comunque ci allontaniamo dalla 12 periodi che comunque non è molto lenta ma è veloce e comunque si a questo prezzo vuol dire che si sta muovendo abbastanza bene il prezzo di bitcoin prezzo di bitcoin o salute di bitcoin lo possiamo andare a visualizzare abbastanza meglio quando vediamo la coppia di luna contro non il dollaro ma contro bitcoin naturalmente questo potete farlo con tutte le altre criptovalute per cercare di non fare un video molto lungo attenzione non è per... potete farlo con BNB BTC con luna BTC, Matic, Solana, Dot, Link tutte le criptovalute che volete fatelo contro bitcoin e vedete la forza della vostra altcoin rispetto a bitcoin come ben vedete luna si sta muovendo praticamente a ridosso contro bitcoin del suo all-time high precedente lasciando perdere questa shadow il prezzo praticamente dell'all-time high consolidato che poi si è mossa praticamente la principale candela precedente all'interno di una sidebar precedente che praticamente considera una sorta di non validazione del prezzo è proprio questo ossia 0,00257 come valore di all-time high che ha raggiunto luna contro bitcoin vediamo se riuscirà a rompere questo 0,0025 e se riuscirà a sfondare gli 0,0026 come all-time high massimo raggiunto dal prezzo anche come shadow della candela giornaliera quindi la forza sicuramente di luna è ben presente un'innotizia per quanto riguarda Binance è che su Twitter abbiamo l'informazione che Binance sarà formalmente almeno hanno annunciato il primo exchange di criptovalute al mondo a partecipare al Grammy Awards americano quindi attenzione che sicuramente questa è una news importante sul fatto della presenza come anche Crypto.com che sono sempre molto presenti all'interno del mondo della parte marketing di tutto quello che riguarda l'universo del marketing, dei media, del cinema, dello sport e così via quindi sicuramente una notizia bullish potrebbe essere anche questa vediamo adesso Ethereum che ETH contro il dollaro si muove naturalmente verso l'alto a 3525 dollari dove naturalmente dovrà cercare di sfondare questo valore di possibile resistenza che individuiamo proprio in corrispondenza di questo prezzo perché se andiamo a vedere nelle volte precedenti si è stato mantenuto, sfondato, rotto, ridimensionato quindi validato, poi riposizionato, rimbalidato, riposizionato di nuovo e rotto verso l'alto come bullish sceso di nuovo e attualmente ci troviamo proprio in corrispondenza di questa enorme molto forte shadow del 4 di dicembre 2021 che deve essere rotta naturalmente per poter e quindi validata per poter dire che questa resistenza è stata quindi violata verso l'alto per un scenario bullish e che naturalmente supponiamo sia il 3673 un valore ipotetico per rompere verso l'alto se questo scenario non dovesse essere considerato ma si va a rompere al di sotto dei 3.400 il prossimo scenario potrebbe essere quello dei 3.200 attenzione sotto i 3.200 scenari più pericolosi potrebbero avviarsi sotto i 3.000 e quindi scenari bullish sotto i 3.200 scusate, bearish sotto i 3.200 scenari bullish al di sotto dei 3.500 diciamo 3.600 con conferma a 3.678 dollari superato questo valore si ha naturalmente una possibile zona di entry se confermata per andare a ritestare di nuovo questi valori di superiori valori di resistenza nell'intorno dei 4.000 dollari bene ragazzi chiudiamo con Elon Musk perché un suo tip dove praticamente si è permesso di parlare ai loro suoi follower su Twitter citandolo che Twitter praticamente aveva vediamo se riesco a trovare Twitter perché ho qualche difficoltà ma non credo dovrebbe essere qui Twitter Twitter vedete che pump che ha avuto Twitter questa azione praticamente ha avuto un pump così molto forte grazie al fatto di una notizia di che ne parlava sempre bene si ha chiesto naturalmente se graddivano i follower di Elon Musk un sempre più possibilità di modifica di customizzazione da parte degli utenti di Twitter e naturalmente Elon Musk con questa notizia è andato a comprare praticamente Twitter a un prezzo ridicolo e poi quando è salito ha avuto un guadagno perché ne ha comprata un'enorme quantità di azioni di Twitter quindi adesso è a rischio diciamo di possibili azioni da parte della SEC perché a tutti gli effetti questo si tratta di insider trading ossia la possibilità di modificare il prezzo da notizie interne che tu hai saputo e oltretutto oltre a sapere delle notizie avere i fondi per poter comprare prima che avvenga quella news diciamo che la news l'ha generata lui stesso vedremo come finirà ad Elon Musk in merito proprio a questa vediamo gli dico yes 70% va bene che cosa accadrà ad Elon Musk in merito a queste notizie che non riesco a trovare ma l'ho letta da qualche parte e che comunque questo è il motivo delle sue furbate relative ad acquistare a prezzi migliori rispetto ad altri che lui naturalmente utilizza naturalmente questo Elon Musk è seguito anche da Terra World come NFT Meta, Drop, Free Crypto tanti lo seguono perché giustamente è una persona influente che quando parla a lui molti danno adito danno conto diciamo quello che dice Elon Musk ragazzi quindi vi saluto è stato un piacere mi raccomando con i like non lesinate a schiacciare il bottone ci vediamo alla prossima ciao e grazie